Lungaggini burocratiche, lavori iniziati e mai completati e intanto il costo delle opere lievita. Bisogna cambiare la normativa sugli appalti, lo chiede la filea CGL che oggi ha manifestato a Bari per questo motivo e in altre 29 città italiane. Buongiorno al segretario barese della CGL, Pino Gesmundo, ben arrivato, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora Gesmundo, cominciamo col dire che voi chiedete una legge, proponete una legge di iniziativa popolare per modificare questa normativa sugli appalti e oggi avete raccolto firme. Certo, oggi continuiamo a raccogliere firme a Bari, il 19 ci sarà una giornata nazionale nella quale in tutta Italia si raccoglieranno firme per questa proposta di iniziativa popolare sugli appalti. è un settore strategico, importanti punti di PIL, soprattutto rispetto agli appalti pubblici, sono utilizzati per questa vicenda. È un sistema all'interno del quale c'è molta corruzione, c'è il rischio... Cosa è che non funziona esattamente in questa normativa? Intanto c'è un problema di trasparenza nella gestione degli appalti, intanto c'è un problema che non può essere gestito il sistema degli appalti, soprattutto quelli pubblici, rispetto al sistema del massimo ribasso, dove sostanzialmente sono i lavoratori a pagare le conseguenze del massimo ribasso, si sviluppa corruzione, quindi c'è bisogno di una normativa nuova che garantisca i lavoratori, garantisca il corretto utilizzo delle risorse e maggiore trasparenza. L'elenco dei lavori iniziati e mai completati, già finanziati in molti casi, è lunghissimo. Assolutamente sì. Questo elenco, vogliamo fare qualche esempio? Beh, intanto io vorrei ragionare sul fatto che 3 miliardi e mezzo di vecchia programmazione sono andati via dal mezzogiorno perché non sono state utilizzate quelle risorse. Per la provincia di Bari possiamo fare alcuni esempi, penso complessivamente, abbiamo ragionato soltanto su 4 appalti, circa 180 milioni di euro non utilizzati e che se non utilizziamo entro giugno rischiano di andare via. Penso alla poligonale di Bari, che vale 30 milioni di euro, penso al potenziamento della ferrovia afro-lucana, che vale altri 46 milioni di euro e potremmo continuare col sottopasso di via Overda e qualt'altro, 180 milioni di euro da utilizzare entro giugno, che significano opere e posti di lavoro. Ecco, ci sono poi 100 milioni per l'area metropolitana di Bari, 100 milioni di euro che ballano. 100 milioni di euro per la programmazione 14-20 sull'area metropolitana dei Bari, bisogna iniziare a utilizzarli subito per evitare di dover restituire anche parte di queste risorse se non utilizzate per tempo. Sono opere per i cittadini e sono posti di lavoro? Voi chiedete un incontro urgente alle istituzioni? Abbiamo chiesto intanto un incontro urgente a tutti i soggetti interessati, alle ferrovie, all'università, perché c'è anche un problema del campus di Valenzano, perché gli enti interessati, non solo alla programmazione, ma alla realizzazione delle opere, aprono immediatamente questi cantieri, facciano il possibile perché questi cantieri si aprano, ma abbiamo chiesto, anche unitariamente, abbiamo fatto un accordo stamattina con Cisle Will, perché il sindaco di Bari, responsabile dell'area metropolitana, ci informi rispetto all'utilizzo e alla programmazione sui 100 milioni del PON dell'area metropolitana. Ecco Gesmundo, siamo in chiusura, in un flash, vuole fare un appello, 100 milioni solo per Bari, 180 in totale, giugno è vicinissimo. Certo, dobbiamo ragionare perché questo significa infrastrutture, attrazione di investimenti e soprattutto posti di lavoro. Grazie a Pino Gesmundo, segretario barese della CGL.